segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te nel 1961 vedremo poi anche come la casa bianca si prepara però ai funerali di jfk ecco che presidenza fu quella dei kennedy la presidenza di john f kennedy nella nostra coscienza collettiva almeno in italia in europa e di un momento di grande carisma un'aristocrazia la casa bianca un uomo che ha gestito il drammatico crisi dei missili in cuba però più che uno impara dalla famiglia kennedy più che sembra che forse quel mito non c'era mai stato così o è stato anche un risultato di una macchina di pr molto efficace perché scandali e tristezze nella famiglia kennedy sono leggendari ma adesso pare che dobbiamo anche ricordare kennedy come l'uomo che ha portato l'america verso la escalation in vietnam e quindi diciamo che la storia si vede ma talvolta si rivede anche e nella casa famiglia kennedy c'erano anche le debolezze invece un'altra